Cari amici, benvenuti in questo video dedicato a Doki Doki Blue Skies L'ultima volta, se vi ricordate, il nostro Kiryo aveva appena assistito a una litigata tra Yuri e Natsuki e Monica è stata molto brava a cercare di farle in qualche modo riappacificare Adesso Kiryo sta tornando a casa con Sayori in questa mod in cui le cose non dovrebbero andare proprio come l'ultima volta Vediamo un po' cosa sta per accadere Eh, Sayori, riguardo a quello che è successo prima Eh? Di cosa stai parlando? Eh, del litigio tra Yuri e Natsuki Me l'avevi già detto che a volte non vanno d'accordo, ma non pensavo fino a questo punto Litigano sempre così tanto Mi sento un po' in colpa a farle questa domanda, perché lo so che a lei non piace parlare di conflitti Non mi sembra tanto allegra adesso che mi sta per rispondere No, no, di solito non litigano così tanto Certo, hanno delle differenze, sicuramente, di gusti, opinioni, ma è la prima volta che le vedo litigare così Ma sono persone fantastiche tutte e due, te lo assicuro Non è che adesso le odio qualcosa del genere, vero? No, no, figurati È normale per delle persone che hanno gusti diversi litigare, immagino Semplicemente ero curioso di sapere come stava la faccenda In fondo tu le conosci meglio di me Sayori sembra sollevata Sai, Kirio, è bello vederti così tanto di nuovo Non pensavo che avemmo ricominciato a passare così tanto tempo insieme Già, chi lo dici? È stato divertente oggi stare insieme Non ho idea di quando e come ci siamo cominciati a separare, in effetti Probabilmente è stata semplicemente la vita che ci ha un po' allontanato Annuisce, sembra un po' pensierosa Comunque sono felice di essere entrato a far parte del tuo club Sarò sincero All'inizio ero un po' dubbioso quando mi hai spiegato che era un club di letteratura Ma ho capito che non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina Che questo è un po' il tema base di Doki Doki di Tella Tour Club Sayori ridacchia Ho detto qualcosa di divertente? Questa te l'ha detta Natsuki, vero? Cosa? Ah sì, è vero, me l'ha detto lei ieri che non devo giudicare un libro dalla copertina A volte Sayori sembra che abbia la testa tale nuvole Però si accorge delle cose a cui io non presto attenzione Mi domando cosa c'abbia davvero nella testa questa ragazza Eh, non sei cambiato ad una virgola, Kirio Sai sempre come farmi ridere? Arrossisco Non so mai come reagire quando mi fanno un complimento Soprattutto se viene da una ragazza Eh, sono contenta di essere ancora capace di farti ridere Sai cosa? Non pensavo che mi sarei fatto dei nuovi amici a entrare dentro il club Eh, ma sono ragazze simpatiche, dai, non sono mica sorpresa Sì, in effetti mi hanno dato un bel benvenuto E lei annuisce contenta Comunque sia, vediamo cosa ci riserva il futuro Ci vediamo domani Ok, domani Queste ragazze sono proprio dei personaggi interessanti, vero? Tutte con personalità diverse, con diversi stili di scrittura Eppure sono tutte unite nello stesso club Mi domando come abbia fatto Monica a cercarle Comunque sia, in soli due giorni ho già fatto dei progressi con tutte Ho conosciuto Yuri Natsuki, mi sono avvicinato a Monica E ovviamente mi sono riunito alla mia vecchia amica Non pensavo che un'insieme al club avrebbe avuto questi benefici Ma non mi sto lamentando Spero soltanto di migliorare come scrittore Così potrò scrivere delle poesie che possano competere con le loro A proposito, devo scrivere la poesia di oggi Andiamo! Ma quanto è carina questa animazione del giorno che passa Delle ragazzine qui che saltellano Ma che pucce, ma che carine che siete Che arriva la notte e voi siete ancora lì che saltellate E con questa parola a morte abbiamo l'ultima parola Per scrivere una poesia dedicata a Sayori Fino a qualche giorno fa non pensavo che avrei aspettato così volentieri Un'attività extracurricolare Ma eccomi qui pronto per un'altra riunione del club Appena entro nel club Vedo le stesse cose di sempre Ciao Kirio! Oh ciao Sayori Sembri di buon umore oggi Eheh E che non mi sono ancora abituata a vederti qui Tutto qui Davvero? Beh è bello vederti così di buon umore Comunque qualche novità? Oh sì ho una novità fantastica Ah davvero cosa? Lo sapevi che il negozio di alimentare della scuola Adesso vende una nuova marca di latte alle fragole? L'ho visto mentre passavo? Eh sì avevo dovuto aspettarmi che le sue buone notizie fossero qualcosa del genere Non l'ho ancora assaggiato Magari per i miei gusti è un po' troppo dolce il latte alle fragole Cosa? Ma è buonissimo con il pane al cocomero Sayori sei sti capace di mangiarti lo zucchero a cucchiaiate e dire che non è abbastanza dolce? Oh non esagerare adesso Comunque dico sul serio ci sta benissimo con il pane Il latte che dico io sarà anche dolce Ma ha comunque quel sapore di fragola che sta benissimo con il latte E quando lo abbini con del pane fresco la sua dolcezza è ancora maggiore E così si ottiene il livello giusto di sapore E da quando sei diventata Gordon Ramsay tu? Ah ma io sei un'esperta di cibo devi fidarti di me se ti dico così Oh no ci credo visto quanti snack mangi tutti i giorni Non dubito che tu conosca bene il cibo Lo prenderò per un complimento però sei cattivo Quindi sono cattivo perché le ho fatto un complimento? Comunque sia non hai fame adesso? Parlai sempre di cibo mi ha messo fame Eh ora che mi ci fai pensare forse un po' di fame ce l'avrei Benissimo allora andiamo a prenderci qualche snack Ah ecco dove voleva andare a parare lei eh Alzo le sopracciglia e Sayori se ne accorge Eh Kirio perché mi guardi in quel modo? Beh Sayori comincio ad avere un piccolo sospetto che tu Voglia convincermi ad andare al negozio di alimentari Perché non ti sei portata il portafoglio E vuoi che io ti compri qualcosa? Cosa? Non farei mai niente del genere? Ah davvero? Vediamo quanti soldi hai allora Ehm dai vediamo i portafogli Ehm Sayori fa una risatina un po' strana mentre tira fuori il portafogli Lo apre e lo svuota sulla schivania Ne escono soltanto due monetine Eh lo sapevo lo sapevo Questo trucchetto ha funzionato diverse volte Quando io e Sayori eravamo ancora piccoli Quante volte mi ha fregato per farmi comprare un altro gelato? A quanto pare certe cose non cambiano mai eh Bel tentativo Sayori Ma non è giusto come facevi a saperlo Perché ti conosco bene Anche se puoi chiamarlo intuito se preferisci Mi fa una linguaccia tipico di Sayori Eh eh Anche Yuri si mette a ridere Eh tu che vuoi? Non mi era accorta che si sta ascoltando Ci sta osservando da dietro un libro Ehm Scusate non è che stavo ascoltando cose così? Ehm è stata una cosa nel mio libro che mi ha fatto ridere Yuri Chiede a Chilo di prestarvi un po' di soldi per favore Cos? Non sono affari miei questi Sayori E comunque Tu dovessi comparti soltanto ciò che ti puoi permettere È vergognoso manipolare le persone affinché compiono delle cose per te Ah Wow Che commento rude Stavo soltanto prendendo un giro Sayori Ah Ho appena No non volevo dire quello che ho detto È venuto fuori in maniera molto più maleducata di quanto avessi in mente Scusa scusa Mi dispiace io Arrossisce di imbarazzo Distoglio lo sguardo E si mette a giocare con una ciocca di capelli Ehm Chiedo scusa per come mi sono appena comportata Sembra ancora un po' di imbarazzo per come si è comportata anche ieri Va bene anche se sei onesta ogni tanto Non dovessi sempre tenerti dentro tutto ciò che ti infastidisce Ehm Ehm Non Ma com'è possibile che tu pensi una cosa del genere dopo quello che ho detto Ma sì in effetti avevi ragione Non dovevi fare in modo che le persone mi compiono le cose Peccato che tu non la vedessi così anche quando avevamo dieci anni eh Sayori Ah è così È qualcosa che Sayori faceva da bambina eh Esatto E molte volte ci sono anche cascato Non hai idea di quante caramelle Sayori mi abbia fatto comprare per lei Uffa Basta parlare di queste cose Kirio E comunque quelle caramelle erano veramente buone Sono sorpresa Sayori che tu avessi un simile comportamento Mi sa che sotto sotto siamo un po' tutti dei diavoletti no? Ehehe Che succede qui? No niente Sayori che si comporta male Oh in che senso? Ma no niente voleva solo che le compassi qualcosa da mangiare Ehi non è vero Monica sorride e mi guarda Qualcosa mi dice che non è la prima volta che succede E non lo è infatti Ci mettiamo tutte a ridere tutte e tante Sayori ovviamente Ehi basta ragazzi siete cattivi Va bene va bene scusaci In mia difesa posso dire che sono veramente affamata Beh Natsuki interviene Se sei veramente così affamata puoi prenderti questo se vuoi E Natsuki offre a Sayori un grosso biscotto avvolto nella plastica E Sayori lo prende subito Oh grazie 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 Sayori abbraccia il biscotto Dai mangialo e basta Sayori si mette a rimuovere il cellophane e Dà un gran morso al biscotto E' così buono Mmm Sayori si mette le maie davanti alla bocca Mi sono morso la lingua Ma dai Sei andata a cappò con un singolo biscotto Anche Natsuki morde il suo biscotto Oh anche il tuo sembra buono Natsuki Posso provarlo? Oh ma dai Il tuo è la cioccolata Si lo so perché pensi che ti abbia dato quell'altro Va bene Comunque grazie tanto di aver condiviso il tuo biscotto con me Sayori va vicino a Natsuki e la abbraccia Oh smettila Ho capito capito Col biscotto ancora in mano Natsuki cerca di levarsi di dosso Sayori E Sayori in qualche modo riesce a fare un brutto scherzo a Natsuki a morderla il biscotto Ehi Ma l'hai fatto per davvero Mh mh A bocca piena Sayori se ne va via Yuri, Monica e Dio ci mettiamo a ridere Uffa Sai essere veramente una bambina delle volte Sayori Monica gli puoi dire a Sayori di smettere di rubarmi il cibo? Sayori non devi rubare il cibo senza permesso Lo so lo so mi dispiace Natsuki ma era così buono Ehi Tutti quanti ridono eccetto Natsuki Capitano spesso queste cose Monica Un po' troppo spesso a dire la verità Ma non ti preoccupare alla fine ci divertiamo Ci divertiamo finché ci stuzzichiamo a vicenda Non quando ci rubiamo il cibo Dai non è successo niente Mmm Natsuki mette il broncio Adesso che siamo tutti calmi possiamo ritornare alle attività quotidiane Sayori si è già mangiata tutto il biscotto Natsuki si sta dirigendo verso l'armadio e Yuri è persa nel suo libro Kiryu, Kiryu Arriva Sayori Devo andare a prendere delle altre cose da un'altra classe Puoi venire con me? Che cose? Eh sai che c'è il festival tra poco no? Monica vorrebbe fare dei cartelloni per parlarne Quindi ci servivano matite a cera, pennarelli, colla, quelle cose lì Va bene vengo con te Evviva! Arriviamo subito Monica eh Wow sembri contenta di questa missione Sayori Ma certo divertente esplorare le classi vuote Vero Kiryu? Monica sorride e annuisce Va bene non dimenticatevi però la carta per i poster Non ce la dimenticheremo Pronto Kiryu? Sì andiamo Sayori ed io usciamo dalla stanza E io la seguo mentre lei canticchia e saltella Onestamente a volte mi sembra come se portassi in giro un bambino o qualcosa di simile È che Sayori è in grado di trovare il bello anche nelle piccole cose Tutto sembra un'avventura insieme a lei Ehi Sayori Cos'è che dobbiamo fare per il festival? Non ho proprio idea di come faremo a ottenere un evento interessante a base di letteratura Eheh Monica e io abbiamo già un piano Non ti preoccupare Davvero? Ma certo Faremo una gara di poesia Una gara? In che senso? Una performance? Di che tipo? Cosa intendi? Beh avremo tutti quanti il nostro turno sul palco E dobbiamo recitare le nostre poesie preferite Ah Sembra Beh non sembra poi una cosa così noiosa Ma davvero alle persone interesserà qualcosa di simile? Kirio Non la stai pensando nel modo giusto? Non si tratta soltanto di leggere le nostre poesie Si tratta di recitarle Sai devi metterti lì a interpretare le poesie E Sayori si mette a recitare una poesia per far vedere cosa intende Così hai capito? Wow Sayori Non sapevo che fossi così brava a recitare E cosa intendi dire? Eh non ti avevo mai sentito parlare così prima d'ora Beh non mi sembra una brutta cosa No no sei stata brava È diverso da come sei di solito Sono sicuro che anche Monica e Yuri la apprezzerebbero Ah ce l'ho guardata tanto su quella poesia Perciò sono contenta di sapere che ti è piaciuta Sono così emozionata per questo festival Non solo perché ci sa un sacco da mangiare come dice Natsuki vero? Oh sei cattivo No non è solo per quello Anche se sì un po' è anche per quello Senti Kirio questa classe è vuota Mi sa che qui ci troveremo quello che ci serve Via in missione Ah questo entusiasmo così infantile Mi sta facendo di nuovo sentire quel sentimento dell'infanzia che pensavo di aver dimenticato Quel senso di innocenza di sorpresa Dove anche le cose più semplici Come uscire dalla classe sembravano dei viaggi magici Entriamo in classe Sayori e Dio andiamo verso l'armadio e io la seguo Vediamo un po' cosa c'è qui Matite Sayori prende le matite e le tira giù dallo scaffale Sono anche di una buona marca Anche se sono un po' sporche Vabbè questa è fatta Non ti ristare dobbiamo trovare anche Oh ma dai ma stavo cercando il mio colore preferito Va bene va bene Però ti devi spostare così posso cercare la carta per i poster Ah mi sa che ho rovesciato qualcosa per erro Brava Sayori Ah Sayori si piega e va a sbattere la fronte contro il banco E mentre cade per terra tutte le matite le finiscono addosso Ai 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 Sayori stai bene? Mi sono fatta male alla fronte E Sayori comincia a toccarsi la fronte perché poverina si è fatta male Che è successo? Ti sei tagliata? Ti sei fatta un livido? Cosa? No no niente del genere Però mi sa che mi verrà un bernoccolo Oh Sayori per un attimo mi hai fatto spaventare Questa è proprio la tipica cosa da Sayori E' come se ci avesse scritto imbranata sulla faccia delle volte Il che va anche bene Basta che non si faccia del male Oh ma perché ridi di me? Come sei cattivo Scusami scusami non è che volessi ridere di te E' che è una cosa così tipica tua a fare così E questo cosa vorrebbe dire? No no niente niente Lasciami vedere come sta la tua fronte Sayori è ancora seduta per terra Così la ferro per la vita e la tiro fuori dall'armadio Devi muovere le mani Sayori Ma ma mi fa male Ma che cucciola lì per terra con le matite Io sta cosa non l'avevo mai vista perché non l'avevo mai fatto La seconda poesia per Sayori Quindi è la prima volta che vedo questa immagine Ma che carina guardatela Dai cercherò di non farti del male te lo prometto Sayori alla fine si toglie la mano dalla fronte E io le sposto un po' la frangetta da un lato Ai Scusa Effettivamente c'è un brutto signorosso al centro della sua fronte Probabilmente le verrà un livido Oh non ti preoccupare Non è così male Ma fa male All'improvviso mi sento così protettivo Dai ti vado a prendere del ghiaccio In questo modo si dovrebbe gonfiare di meno E probabilmente ti farà anche meno male Resta qui e arrivo subito Ma dove lo trovo del ghiaccio però? Ah ci sono Una bibita fredda potrebbe aiutare Davvero? Ma non devi Non sarei un gran che come unicorno Anche se è tutto adolorante Sayori riesce comunque a dire stupidaggini Sono sicuro che sei un unicorno molto grazioso Ma ti preferisco come essere umano Oh ma anche gli unicorni sono belli Arrivo subito eh Va bene Do una pacca a Sayori sulla spalla Mentre corro via Trovo la macchinetta delle bibite Cosa le prendo adesso? Ma non importa Tanto mica lo berrà Sì che lo berrà invece Stupido Chirio In fondo so che a Sayori piace il succo di mela Quindi prendiamo questo dai E torno indietro da Sayori Con una mano sta mettendo a posto le matite L'altra ce l'ha ancora sulla fronte Beh le matite avevano già tutti i colori scombinati Prima ancora che le rovesciassi Eccoti qua Do a Sayori la bottiglia di succo di mela Ah in effetti è molto fresca Fa piacere Sayori però la apre e si mette a bere Sayori che stai facendo? È per la tua fronte scema Scusa me l'avevo dimenticato Ma quanto è battuta forte la tua testa? Sayori si rimette la bottiglia sul bernoccolo E sembra che le faccia male Ah brucia Lo so lo so Ma vedrai che poi starai meglio Sembra che ti abbia messo a posto un sacco di matite Brava Ehi Chirio Immagino che si intendesse questo con la crescita no? Che vuoi dire? Chirio te lo ricordi di quando giocavamo fuori tutto il tempo? E io cercavo sempre di tenere il passo con te A volte eri un po' perso nei tuoi pensieri E a volte mi sembrava di essere lasciata indietro O di non riuscire a stare al passo con te E a volte quando facevo delle cose che non ero in grado di fare Finiva che mi facevo male Cadevo Mi ghaffiavo Mi facevo un bernoccolo E cominciavo a piangere E tu venivi subito il mio soccorso E ci provavi davvero a farmi smettere di piangere Sembrava quasi che tu dessi la colpa a te stesso E avessi paura che qualcuno si sia arrabbiato con te se l'avesse scoperto Anche se in realtà non era mai colpa tua sai Eh sì sì me lo ricordo Eri sempre un po' imbranata Mi sa che non è cambiato molto da allora eh Guarda che lo facevo apposta sai Alza le sopracciglia Ho sempre voluto essere un unicorno Questa è forse la scusa meno credibile che abbia sentito in vita mia Eh eh lo so lo so Non sono mai stata così Aggraziata diciamo Mi sentivo sempre in colpa quando ti facevi male mentre giocavamo insieme Magari col seno di poi avrei dovuto fare più attenzione alle cose che tu potevi o non potevi fare Sì E anche stavolta è andata esattamente così Se non ti avessi spinto contro l'armadio probabilmente non ti saresti fatta male Mia madre faceva bene a sghidarmi ogni volta che tu ti ferivi Sempre a dirmi che dovevo stare attento quando c'hai tu in giro Chirio Non ti preoccupare non è successo niente È anche colpa mia se sono così imbranata E anche se a volte mi sono fatta male ho sempre dei bei ricordi di noi due in quei momenti Mi sono sempre presa conto di quanto tu fossi una persona premurosa Ma no che non sono premuroso ti facevo soltanto fare male No no non è questo che intendevo è che tu ci badavi a me Anche dopo tutti questi anni sei venuto subito ad aiutarmi Non importa cosa succede sei sempre qui per rassicurarmi per farmi sentire al sicuro Ma non è che lo faccio proprio sempre È solo che quando sono con te mi sembra naturale farlo Lo faccio incondizionatamente Immagino che questo sia quello che succede quando sei amici da tanto tempo Non so se te l'ho mai detto prima Chirio Ma sono molto felice che noi siamo amici Lo ammetto mi sono mancati tanto questi anni insieme Eravamo sempre appiccicati Mi sono sorpresa così tanto quando ti sei avvicinato a me l'altro giorno Non sapevo proprio che cosa fare all'inizio Ma poi siamo andati al club Abbiamo condiviso le poesie Siamo andati a casa insieme E è come se niente fosse mai cambiato Pensi che sarà sempre così Chirio Vorrei dirle di sì ma non so come cambierà la mia vita con il college O anche dopo Però voglio essere positivo Lo spero Sayori È passato così tanto tempo In fondo non riuscirei a immaginarti diversa Quindi spero che rimarremo sempre amici Lo so che non parlavamo da anni Ma adesso siamo di nuovo in sintonia Come se niente fosse mai cambiato Da qualche parte ho letto che questo è il segno di un'amicizia Che è destinata a durare nel tempo Quindi c'è speranza Lo spero anch'io Ah sono così contenta Sayori Rimaniamo in silenzio per un attimo Chi immaginava che una cosa semplice come prendere delle matite Avrebbe generato un momento così sentimentale In effetti con Sayori è impossibile prevedere queste cose Via Adesso dobbiamo proprio tornare indietro Non voglio far preoccupare Monica Ah buona fortuna Sicuramente se ne accorgerà che ti sei fatta male Non se ci metto sopra la frangetta Sayori balza in piedi Aaaaa Si tocca di nuovo la fronte Sayori Oh Via via andiamo Alla fine seguo Sayori fuori dalla classe Sayori cerca di nascondere il livido con la frangetta Ma senza successo E torniamo finalmente al club Oh siete tornati Meno male Stavamo giusto per iniziare a condividere le poesie Sayori che hai fatto alla fronte? Eh niente Stavo prendendo delle matite E sono andata a sbattere contro uno scaffale Ah Eh Stai bene ora? Sì sì sto bene tranquilla Chirio mi ha dato qualcosa di freddo da bere Va bene via meno male Hai preso tutto quello che serviva? Sì sì ce l'ho Qui Sayori si guarda intorno Oh Ho dimenticato tutto Dai non fa niente Ce l'ho io tranquilla Sayori Ho trovato anche la carta per i poster Ah ah Via alla fine è toccato tutto a Kiro il lavoro eh Eh beh Sayori Vorrei trovare una scusa per Sayori ma non mi viene in mente nulla Vabbè dai non fa niente Buon lavoro Stanotte comincio a lavorare su quel poster Grazie ragazzi Via ragazzi tutti quanti siete pronti a condividere le poesie? Mi sa che dove prendere la mia Chiudo bene la scatola delle matite e ritorno al mio banco A chi facciamo leggere la poesia? A Sayori perché l'abbiamo scritta letteralmente per lei Mmm Kiro Ma questa poesia è fantastica Non me l'avevi mai detto che eri un poeta così bravo Ma Sayori non è vero non so niente di che Sei l'unica che apprezza così tanto le mie poesie Ma davvero? Sì onestamente sì È che sai trovo facile scrivere poesie se penso ai nostri ricordi insieme Eh davvero? Sembra strano eh? Faccio una risattiva nervosa mentre guardo che Sayori sta arrossendo Non lo so forse la mia vita sembrava un po' noiosa altrimenti E invece quando ci sei tu? Beh quando guardo indietro e penso ai nostri ricordi insieme Tutto sembra molto più avventuroso con te accanto E poi tu hai un'immaginazione così vivida E mi sa che quell'immaginazione un po' arriva anche a me quando penso a te Abbiamo una sorta di connessione O almeno questo è quello che sto cercando di dirti E insomma questa connessione è ancora qui dopo tutti questi anni Sì ma capisco cosa vuoi dire Posso chiederti un favore? Cosa? Potrei tenerla io questa poesia? Eh sai è la prima poesia che hai scritto per me Eh no non è che volevo essere cattivo o qualcosa del genere Ma non l'ho scritta per te Ma puoi tenerla comunque Anche se non credo che sia un granché onestamente Quindi posso tenerla? Yeee Grazie Aspetta un attimo Sayori Non l'hanno ancora letta le altre Sarebbe ingiusto dartela subito Oh hai ragione Hai dovuto pensarci prima Va bene non fa niente È solo che mi ero un po' emozionata Te la darò più tardi ok? Va bene Comunque devo ancora leggere la tua Oh eh sì è vero me l'ho dimenticata Non è bella come la tua ma magari ti piacerà Ma sì che mi piace dai Sayori Bottiglie Ragazzi questa qui è la poesia che Sayori effettivamente ci dà da leggere anche all'interno del gioco non moddato E si intitola Bottiglie Questa poesia parla in maniera molto molto parafrasata della depressione di Sayori Tutte queste bottiglie non sono altro che la sua energia vitale che lei dà via alle altre persone pensieri felici Pensieri felici che lei si ostina diciamo a usare per nascondere il fatto che in realtà probabilmente soffre di depressione Una depressione che poi nel gioco originale viene accentuata da Monica E lei si rende conto che tutti questi pensieri felici nonostante si sforzi per darli alle persone in realtà lei non stanno portando niente di buono E che nella sua testa c'è soltanto un brutto eco quindi questa poesia è rimasta uguale all'originale Wow Sayori non mi aspettavo niente del genere L'hai veramente scritta tu? Ma certo che l'ho scritta io Te lo ricordi te l'avevo detto che oggi avevi scritto una bella poesia Beh eccotela qua E poi Monica mi ha insegnato bene Sono stata molto connessa con i miei sentimenti di recente Quindi di cosa parla questa poesia? In realtà penso di averlo capito perché a differenza di Monica o di Yuri scrive delle cose molto più semplici Eh se ho capito bene praticamente stai facendo di tutto per fare in modo che i tuoi amici siano felici Esattamente Mi è piaciuto molto scrivere quella poesia Pensare qualcosa e trasformarlo in una poesia è quasi magico Beh è molto bella dovesti esserne fiera Oh grazie vuol dire tanto per me non pensavo che fosse un gran che in realtà No no è bella te lo dico io Anche se non faccio a meno di notare che la seconda parte della poesia non è per niente allegra Anzi in realtà c'è qualcosa di inquietante C'è un contrasto molto netto tra questa poesia e la tipica alleghe di Sayori Ma dimmi un po' ma la fine della poesia non è un po' oscura? Hai detto che sei stata molto in contatto con i tuoi sentimenti di recente Quindi è tutto a posto? Ma si tranquillo Mi ero dimenticata di dirtelo Ultimamente sto scrivendo delle cose un po' dolce amare Roba che non siene troppo triste e troppo allegra Un misto delle due E questa poesia fa vedere esattamente cosa intendo È soltanto il mio stile di scrittura Va bene penso che abbia senso come spiegazione Comunque sì sono felice che ti siano piaciute le mie poesie Spero che continuerai a scriverne di così belle È bello avere un hobby Ma certo e anche tu mi raccomando continui a scrivere cose così belle Non vedo l'ora di vedere cos'altro scriverai Oh non prometto niente ma Vista tutta la passione che ci sta mettendo Sayori è difficile essere pessimisti in un momento simile E adesso a chi la facciamo leggere? La facciamo leggere a Monica E ciao Chirio Ti stai divertendo quel club? Sì esattamente come ti ho detto ieri Ah che bello da sentire Come è andata oggi la scrittura? Bene credo Mmm dici? No no è semplicemente che Forse dove dire che la scrittura ha rivoluzionato il mio mondo E portato colore alla mia esistenza noiosa Il che è anche un po' vero perché i miei giorni qua al club sono molto più interessanti Va bene dai Ma non c'era bisogno di essere così sarcastici sai? Dai almeno non ti sta facendo schifo questo posto vero? No no in realtà mi sta piacendo molto come esperienza Mi piace avere un nuovo hobby di cui occuparmi Ah meno male poi ti stai anche impegnando dai Magari prima o poi te ne uscirei fuori con qualche capolavoro Neh non credo Ah non si sa mai Mi fai vedere cosa hai scritto? Certo tieni Bene Ti ci sei sforzato tanto vedo Una poesia sincera Molto simile a quelle che scriverebbe Sayori Mi sa che hai più cose in comune con lei di quanto tu creda Eh forse È più facile scrivere col cuore quando penso a delle cose nostalgiche Potrebbe essere così Eh scrivere poesia con gli occhiali rosa No non è che lo faccio intenzionalmente È così che funziona il mio cervello No no vabbè anche se fai così non ci niente di male sai La poesia può essere un modo per esprimere le tue emozioni Quindi va bene scrivere dei tuoi ricordi dell'infanzia Adesso qui Monica si mette a parlare un po' delle posie di Yuri E anche di un altro poeta o comunque autore Di cui vorrebbe mettersi a parlare con Chirio Che ovviamente non sa di chi stia parlando O di cui magari ha sentito parlare durante la lezione inglese Ma non si ricorda così bene Un poeta americano va bene A quanto pare Sayori non è così brava con le parole quanto è quest'autore Anche perché hanno pochi temi di interesse comuni Però l'umore di fondo che permea le loro opere è simile Poesie sincere molto potenti Anche se non sono troppo complicate Che sembrano molto semplici la lettura Ma nascondono un significato più profondo Davvero Sayori scrive delle cose così profonde? Non devi sottovalutare Sayori Anzi dovresti chiedere di farti vedere di nuovo quello che scrive Così capirai cosa intendo Va bene va bene le parlerò più tardi Ma nel frattempo dai un'occhiata a quello che ho scritto io Vediamo la poesia di Monica Oh no si sta cominciando con le parole a caso Oh no oh no oh no Sotto pressione Sono qui che galleggio nel vuoto Grande ma piccolo Sembra così grande eppure soltanto un granello di polvere Alla deriva Girovago portato via In un infinito vuoto Ma poi capisco I miei occhi aperti inietati di sangue La mia bocca aperta in un sussulto Per respirare in questo vuoto Che uccide, che opprime, che impedisce, che lega, che dura per sempre In questo vuoto Tormento Atmosfera, Pascal, Thor Gridare senza una bocca Sirarsi, restringersi Senza potersi arrestare Graffiare ma senza le unghie Disintegrarsi in una poesia soffocata di assenza Monica mi inquieti Mmm, è anche più astratta dell'ultima volta Veramente è molto libera come versi Eh sì, mi sa che io scrivo così Mi spiace se non ti è piaciuta Non ho mai detto che non mi è piaciuta È solo che non avevo mai visto niente del genere prima Le altre ragazze non fanno niente di questo genere almeno Sì, questo è vero Sono un po' più tradizionali quando si parla di struttura della poesia Ma mi piace giocare con gli spazi guati sulla carta Anche perché in questo modo puoi completamente cambiare l'atmosfera del poema È quasi magia Sì, sì, capisco cosa intendi Ci sono un sacco di cose che puoi fare con la poesia Eh già, è veramente una forma d'arte In fondo l'obiettivo delle poesie è proprio quello di creare delle combinazioni di parole Che servono a interpretare il mondo vicino a te Ti piace davvero la poesia Monica, eh? Forse dovessi scrivere una poesia sulla poesia un giorno Eh, non è una brutta idea Comunque non ho ancora capito di cosa parla quello che hai scritto oggi Mmm, a volte chiede di cosa parla una poesia e non è una buona domanda Una poesia potrebbe essere astratta ed essere l'ispressione fisica di un sentimento O una conversazione con il lettore Non tutte le poesie parlano di qualcosa Comunque, questo è il consiglio di Monica del giorno Sei troppo intimidito dall'idea di condividere la tua poesia perché pensi che non siamo granché? È una cosa che tutti ci troviamo ad affrontare prima o poi E può veramente farti venire poi di smettere se ricevi un feedback un po' troppo tiepido Per qualcosa in cui ti sei sforzato tanto Ma se trovi delle persone a cui piace scrivere Forse condividere le cose con loro diventerà più facile Perché invece di dirti soltanto se hai scritto bene, male o niente di che Ti diranno anche su cos'è che potresti lavorare È molto più incoraggiante messa così, non credi? Così ti dà lo spunto per migliorare Sì, in effetti è molto meglio così piuttosto che se uno riceve soltanto una critica non costruttiva Questo è il mio consiglio del giorno, grazie per avermi ascoltato Eeeh, Yuri, tocca a te adesso Dai, vediamo la poesia di oggi Mmm, dai, questa poesia è un po' meglio di ieri Anche se è troppo presto per dirlo, mi sembra che tu stia migliorando Ma davvero? Grazie, vuol dire molto per me Davvero? No, no, va bene così, non c'è problema a dirti queste cose A volte scrivere può essere un po' difficile Quindi non ti preoccupare se le cose non vengono sempre giù perfette A volte le metafore sembrano complicate Ma non usarle troppo se credi E anche se a volte le metafore non hanno alcun senso Possono dare al lettore un'impressione che altrimenti non avrebbero dato In questo modo però il lettore può vedere nella tua mente È una cosa molto intima Capisco Magari ci proverò nella prossima poesia che scrivo Grazie per avermi dato questo consiglio, Yuri Beh, se vuoi vedere un esempio di quello che ho appena detto Ho scritto giusto qualcosa a riguardo Va bene, vediamo Yuri sorride e mi passa la poesia Ok, questa poesia è diversa da quelle che Yuri scriverebbe normalmente Ed è anche abbastanza lunga Ammetto che è abbastanza difficile per me detta durre Anche perché non riesco a leggere bene in questo fonte Comunque è una poesia un po' preoccupante direi Per diversi motivi Mmm, mi sento un po' in colpa Dopo la discussione che ho fatto ieri con Natsuki E volevo sperimentare un po' col mio stile Spero che non sia troppo confusionario No, no, va bene Mi sembra anche più coinvolta di quella che mi hai dato ieri C'è molto simbolismo Credo Però il tono della poesia, insomma, non saprei come descriverlo Sì, sì, è vero, c'è del simbolismo Volevo mettere alla prova la mia cattività stavolta Non mi sono spinta troppo oltre, vero? No, no, è bella Anche se non credo ad aver colto il significato Nemmeno io stavolta Direi che riguarda un segreto custodito molto gelosamente Immagino che tutti abbiano una specie di segreto del genere Qualcosa che preferiscono tenere per se stessi Per la paura di essere ridicoli È bello poter scrivere anche di questi argomenti ogni tanto È un argomento di cui solitamente non parlo volentieri Non quando ci sono delle persone in giro Perché se qualcuno lo scoprisse Beh, finché non fa del male a nessuno Le persone non dovrebbero farsi problemi A meno che non ti faccia male tu Lo pensi davvero? Scusa, stavo pensando a una cosa Comunque hai ragione, forse Forse dovrei semplicemente accettare il fatto che sono un po' strana, no? Dopotutto, se non lo facessi, penso che cominci ad odiarmi Scusami, ci sto mettendo troppo a chiacchierare Grazie per avermi permesso questa discussione Natsuki, mi sei rimasta soltanto te Mmm No, non male, ma neanche granché Onestamente mi sembra guarda la prima poesia che hai scritto Sì, in effetti volevo scriverla simile Ma ho cercato di farla un po' meglio Sì, quello può darsi, in effetti Però parli delle stesse argomenti Prova ad essere un po' più creativo, dai Va bene Via, ti faccio vedere la mia poesia adesso Oh, parecchio lunga quella di Natsuki Questa però è più leggibile Non capisco Non capisco perché le persone odiano le rime E si comportano come se fosse soltanto uno spreco del loro tempo Io non prendo in giro i loro versi liberi O i loro argomenti profondi Fai pure discorsi prolissi se vuoi Fai quello che vuoi Certo, puoi dirmelo se è un problema Basta che le cose rimangono costruttive Le cose andano benone Immagino che tutta questa poesia derivi dal litigio di ieri con Yuri Vorrei che tu sapessi che qui ci apprezzerà Avrà una mentalità differente Non c'è uno stile migliore E qui c'è un insulto per chi la pensa diversamente Le mie poesie possono essere semplici E anche troppo dirette Ma anche le cose piccole in ordine possono avere il loro fascino Non tutte le poesie possono essere complesse Come piacciono a te E se le pensi divertamente Vartene a... Cosa dovrebbero fare i bambini o le persone anziane? A volte si legge anche solo per divertimento Cosa che tu però non fai Andiamo avanti Semplicemente godiamoci quello che è stato scritto Se non ti piacerà pazienza Ma almeno dagli una possibilità Potresti scoprire che in realtà è carino Potresti soltanto aprire la tua mente E questo basterebbe Mmm... Che ne pensi? È scritta bene Non so cosa altro dove dire a Natsuki in questo caso Ma mi sa che è ancora un po' risentita per ieri Spero che Yuri non la veda questa poesia Sì, ero piuttosto ispirata, sai È stato bello scrivere quei versi La poesia è un ottimo modo per far fluire le emozioni Mmm... Non vedo ora di mostrarla a Yuri No, pessima idea No, 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 ferma un attimo Perché? Natsuki, pensi veramente che sia una buona idea farle vedere questa poesia? Mi sa che non le piacerebbe per niente, sai Non credi che dovresti piuttosto cercare di risolvergli questi problemi che hai con lei? Ah, Mari non prova mai a vedere le cose dal mio punto di vista Perché dovevi farlo io? Eh, questo non è un buon approccio, sai A volte le relazioni sono a doppio senso Entrambi devono lavorare per far aggiustare le cose Perché non provi a essere tu quella grande questa volta e vai a parlarle? Mmm... Lei non ci proverà neanche ad avvicinarsi a me È sempre preoccupata per sembrare così complicata e intelligente A lei non frega niente se nessuno la capisce Me inclusa Non puoi capirla se non ci provi neanche Magari parla con dei vocaboli un po' astrusi E a te questa cosa può sembrare strana Ma da quanto ho capito vi somigliate più di quanto tu pensi? Cosa? Ma perché? Non è che stai giudicando il libro dalla copertina, vero? Beh, come vi pare Vabbè, rimani pure imbrocciata quanto vuoi, d'accordo Almeno pensa un po' a Monica Sayori Va bene, non farò vedere la mia poesia a Yuri questa volta Va bene, così, sei contento? Non sarò contento finché non parlerai con lei e cercherai di risolvere Non credo che ti voglia mordere Uffa! Va bene, vado a parlarci Prima o poi Grazie Renderai fieri tutti quanti Stai zitto Uffa, adesso devo pure nascondere la mia poesia Ci ho lavorato duro, sai? Potresti usare quelle energie per produrre qualcosa di un po' più positivo, sai? Sì, probabilmente è vero Oh, mi dispiace però che questa poesia non riuscirà a mandare il proprio messaggio Comunque scriverò una buona poesia anche domani Quindi aspettatela E così abbiamo finito di leggere tutte le poesie Ok ragazzi, abbiamo finito di leggere le poesie Eeeh, Natsuki veramente non mi ha ancora fatto vedere la sua Oh oh, questo non ci voleva Yuri si avvicina a Natsuki che non vuole guardarla negli occhi Pensando a come è la poesia di Natsuki Posso capire che non voglia più condividerla A guardare le espressioni ansiose di Monica e Sayori Penso che anche loro pensino quello che sto pensando io Mentre Yuri non ha capito la situazione apparentemente Vorrei che Natsuki facesse pace con Yuri Ma se Yuri vede la poesia di Natsuki Sarà tutto finito Natsuki posso vedere la tua poesia Eeeh, che ne dici se la vedi domani invece? Non mi sento tanto bene Sai, è quel periodo del mese Posso vedere Monica che sta facendo un facepalm mentale Mentale Natsuki deve essersi dimenticata che questo club non è più soltanto di ragazze Dov'è il problema? Le ragazze hanno il ciclo Parliamone, parliamone apertamente Ah, è così? Ok, mi dispiace Probabilmente non ti senti tanto bene Se non vuoi neanche condividere la tua poesia di oggi No, no, nessun problema Non è colpa tua Domani te la faccio vedere, d'accordo? Mmm Beh, se tu non ti senti bene per mostrermi la tua poesia Posso almeno farti vedere la mia? Eeeh L'ho scritta pensando al nostro litigio di ieri Vorrei farti vedere che ho capito che devo avere la mentalità un pochino più aperta Adesso E che mi sono un po' pentita Lo so che non è granché Ma spero che possa aiutare a riconciliarci un po' Anche se a volte litighiamo Io ti considero davvero come un'amica E gli amici si perdonano a vicenda Scusami se ho detto una cosa un po' presuntuosa Non volevo suonare presuntuosa No, no, anch'io ti considero come un'amica Quindi dammi pure la poesia, dai Con un sorriso timido Yuri dà a Natsuki la poesia E Natsuki comincia a leggere Con gli occhi spalancati Stai usando delle rime come me? Sì, mi hai convinta a usare un po' più di lirica nelle mie poesie Invece dei versi liberi Natsuki senza parole per una volta Grazie Yuri, è fantastico No, no, non c'è bisogno di ringraziarmi Comunque grazie Yuri Vedrai che domani ti mostrerò una poesia fantastica Va bene, non vedo l'ora Spero che ti sentirai meglio domani Così potrai farmi vedere cosa hai scritto Ma certo Oh, meno male Abbiamo evitato il problema Sono contento che Natsuki e Yuri abbiano fatto pace E sembra che anche Monica e Sayori siano contente Via, stiamo andando tutti d'accordo Adesso che abbiamo finito di condividere i nostri pensieri Devo parlarvi di una cosa Presto avremo l'opportunità di poter espandere questo club Parli del festival? Esatto Oh, ma dobbiamo veramente fare qualche cosa? È solo tra pochi giorni Non so se riusciamo a prepararci Sì, anche io sono un po' preoccupata al riguardo Abbiamo così poco tempo per prepararci Non so se riusciamo a fare qualcosa per tirare persone nuove Già, finiamo soltanto per metterci il ridicolo No, non vi preoccupate Faremo una cosa semplice, ok? Niente di più di qualche decorazione Posso creare qualche opuscolo E Sayori potrebbe fare dei poster Va bene, mi sembra una buona idea Ma noi due invece cosa dobbiamo fare? Ah, scusami, non l'avevo ancora detto Faremo una gara di poesie Una performance di poesie Una performance? Cosa? Monica? No, no, ragazzi, tranquille Dovete tutte scegliere una poesia Poi recitarla ad alta voce Non dovete per forza averla scritta voi Basta che vi impegnate mentre recitate Anche se sarebbe meglio mostrare una delle vostre poesie E poi permetteremo agli ospiti di venire lì E recitare anche loro le loro poesie Esatto, faremo dei poster con scritto Porta la tua poesia Sarà fantastico Sayori tira fuori un poster dalla borsa Monica, ci stai prendendo in giro? Non mi dire che hai già fatto quei poster Eh, sì, invece Pensate davvero che sia un'idea così cattiva? Non ce l'ha nemmeno chiesto E se non fossimo d'accordo Riede di stare davanti a un sacco di persone a caso A recitare poesie? Io sono d'accordo con Natsuki Non ce la farei a fare una cosa del genere Ragazze? Eh, un attimo, ci pensiamo, eh Capisco che voi due non avete toppa esperienza Nel condividere le vostre poesie ad alta voce Nemmeno io in realtà Ma penso che dobbiamo provarci Guardatemi intorno Monica ci guarda tutti quanti Siamo tutti qui per questa passione Per la letteratura che ci unisce Non volete condividere questa passione con gli altri? Sì, non dobbiamo fare altro che Spray noi stessi Tutto mente ci divertiamo Natsuki e Yuri mi sembrano parecchio silenziose Mi sa che è il mio turno di dire qualche cosa Ehm, non so se chiedere troppo Ragazze, ma come ha detto Monica Siamo qui nel club perché Vogliamo vederlo crescere E se per farlo crescere Magari bastano due minuti di recitazione Potremmo anche provarci Non è che a me non interessa il benessere del club È che devo veramente recitare anch'io Lo so che è difficile far arrivare gente nuova È perché le persone sono di mentalità così ristretta Non ci danno neanche una possibilità Cosa ti fa credere che questo festival sarà diverso? Anch'io sono d'accordo con Natsuki Mi dispiace Monica Lo so quanto ci tieni Ma non ce la posso fare a recitare davanti a un pubblico affollato Beh a quanto pare gli uni Natsuki su qualcosa sono d'accordo Monica sospira e mette via i suoi schemi Ragazze lo so che siete ansiose Lo capisco lo capisco davvero A della verità anche io sono un po' nervosa Però dopo tutto questo è il mio club Le persone giudicheranno me per la maggior parte delle performance Natsuki se ti fa sentire meglio alcuni dei miei amici verranno insieme a noi Sono delle persone adorabili Non tu giudicheranno Le conosco da anni fidati di me Natsuki inizia a soffiare e si volta Non sembra troppo convinta Yuri lo so che questa cosa ti spaventa Ma forse c'è un modo per rendertela più facile Davvero? Perché non cominciamo a recitare qui in questo club? No Monica È così all'improvviso? Beh se non possiamo recitare qui in questo club è come facciamo a farlo davanti a degli stranei Ma 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 Monica C'è qualcos'altro che potremmo fare secondo me No Yuri è d'accordissimo Ma ragazzi No Sayori va bene così dai Se veramente pensate che possiamo far di meglio di una performance poetica Cercheremo le alternative Qualche idea? Silenzio Alla fine Sayori dice qualche cosa Oh aspetta potremmo Sayori si ferma un attimo No no aspetta niente niente Non funzionerebbe Ancora una volta silenzio Allora Nessuno che abbia una idea migliore della mia eh Monica ride per cercare di Allentare un po' la tensione Io continuo a pensare che la mia sia la migliore opzione fino a questo momento Per favore ragazzi Dai impegnatevi Oh smetti di farci pressione Ma non vi sto mettendo pressione Natsuki In realtà hanno alzato la voce entrambe Oh basta Non c'è bisogno di arrabbiarsi Possiamo parlarne come persone civili Scusami non volevo alzare la voce Che questo festival è molto importante per me È da quando ho creato questo club Che voglio condividerlo con altre persone Natsuki Yuri Eravate tutte e due preoccupate Quando è arrivato Kiro In fondo voi non lo conoscevate affatto Ma guardatelo adesso Si è integrato molto bene Natsuki Sicuramente ti piacerebbe condividere la passione con altra gente No? Sì Penso di sì Visto E questo è il mio modo di pensare Condividere le cose che amo con altra gente Lo so Ma davvero non possiamo fare altro Beh il punto è che le poesie sono una parte importante di questo club E dobbiamo farlo capire alle persone Se facessimo vedere che ci limitiamo a scrivere delle poesie Non sarebbe Realistica come aspettativa Allora ragazzi cosa ne pensate? Per me? Per noi? Oh va bene Ma non penso che sia una buona idea D'accordo lo faremo Basta che tu smetta di rompere Oh meno male Grazie Natsuki E tu Yuri? Ma Monica E se le persone ci guardano E sono maleducate E ridono di noi No non ti preoccupare Se qualcuno dovesse dar fastidio Farei un modo di farlo smettere E se lo dice Monica Infatti anche Kiro si sta un po' spaventando Però Yuri sembra sollevata Meno male Eh vabbè Non ho scelta allora eh Squoto la testa Va bene Lo farò Sì Ci siamo tutti allora Sei la migliore Yuri Questo club mi farà sicuramente Morire un giorno o l'altro E' già successo Yuri E' già successo Tranquilla Dai te la caverai alla grande Yuri fidati di me Ma adesso Cerchiamo di preoccuparci Dell'evento principale Voglio che ognuno di voi Scelga una poesia da recitare Davanti agli altri Non preoccupatevi Lo farò io per prima Così vi sentirete un po' più A vostro agio Posso andare io dopo di te? Ma certo Adesso vediamo Monica prende il quaderno Cercando una poesia specifica Eh eh Eccomi qua E adesso Monica si mette a leggere Una poesia Brava Monica Che bella voce che hai Come sei fiduciosa in te stessa Sono veramente colpito Da quanto è stata brava Anche Sayori è colpita Anche Yuri è colpita Persino Lazzucchi è colpita Siamo tutti colpiti Pim Monica finisce di recitare Tutte quanti Brava Monica Bravissima Monica Bravissima Monica Eh grazie Speravo di dare il buon esempio Sei pronta per il tuo turno Sayori? Sì Sayori sale sulla sedia E comincia a parlare Davanti a tutte quante Questa poesia si chiama Com'è che Tutta la sei cavata così facilmente Monica? Eh beh Fai finta di essere da sola Come se nessuno ti stesse guardando Se la poesia è tua Sicuramente verrà meglio Ah ok Proverò così Allora La poesia si chiama E anche Sayori Comincia a recitare la sua poesia E lo fa molto bene Una poesia un po' dolce amara Come quelle che scrive lei di solito E sentire la recitata da lei Mi fa accogliere meglio il significato Sayori finisce Tutti Ce l'ho fatta Brava Ottimo lavoro Allora chi viene adesso Natsuki Yuri Via mi faccio avanti io Brava Hai fatto bene a prendere l'iniziativa Eh sì Questa poesia si chiama Eh Yuri è paralizzata dalla paura Dai ce la puoi fare E anche lei comincia a recitare In realtà all'inizio Per quanto le temi un po' la voce Poi diventa sempre più sicura Esattamente come fa Quando è assorbita dai suoi libri Adesso sembra una persona Completamente fiera E fiduciosa Anche la poesia è un po' intricata Ma Yuri riesce a enfatizzarla correttamente E quando finisce Tutti quanti siamo Stracolpiti Yuri quasi non crede ad averlo fatto E io Monica è la prima che Alla fine anche io mi metto ad applaudire E Yuri è un po' imbarazzata Ma sorride Brava Yuri Te l'avevo detto che non dovevi preoccuparti di niente Grazie per aver condiviso la poesia Eh di nulla Mi sa che Yuri per oggi ha dato Natsuki Vieni tu? Perché devo andare prima di Kiryo? Non posso competere con voi ragazzi Magari Kiryo vuole andare prima Natsuki Natsuki è una cosa maleducata da dire Non credi? Chiedi subito scusa a Kiryo 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 Natsuki sembra rosca Che c'è? Che è sta voce? Komaki cosa c'è? Ma hai visto che è sulla testa È l'asciugamano? Io non ho nessun asciugamano sulla testa Ho le cuffie Ma che cosa stai dicendo? Quella roba rosa lì Rosa antico Rosa sbiadito Non so di cosa tu stia parlando Non ho nessun asciugamano in testa Komaki fatti controllare da un oculista Ma forse devo cambiare occhiali Ok forse potrei avere un asciugamano Ma posso spiegare? Credo Posso spiegarlo? Non è che mi sono tipo Lavata i capelli Adesso sto aspettando che si asciughino No no Niente di tutto questo Ok torniamo a registrare Natsuki arrossisce Mentre tutte le ragazze la guardano E decido di risparmiare a Natsuki l'imbarazzo Dai non c'è nessun problema Tanto prima o poi tocca anche a me Tanto vale che vada subito Tanto non è che abbia molte poesite a cui scegliere Leggerò quella che ho scritto oggi e basta Tutti mi stanno guardando E mi sento stranissimo Faccio un bel respiro e mi ripeto il consiglio Che Monica ha dato a Sayori Fai finta di essere da solo Fai finta di recitare per te stesso Da solo come quando sono a casa Seduto da solo davanti alla mia schivania Davanti a me c'è il poema che ho appena finito di scrivere Con l'inchiostro ancora fresco Alla fine mi metto a recitare ad altavoce E man mano che prendo confidenza Cerco di essere sempre più energico Quando finisco Le ragazze cominciano ad applaudirmi Bravo Kirio Eh spero di essere allo stato Oh non giudicarti troppo male L'unica cosa che ti butta un po' giù Non è tanto la tua poca esperienza nella scrittura Quanto la mancanza di fiducia in te stesso Ma è qualcosa che migliorerà col tempo Non ti preoccupare Ok Grazie Ok ragazzi Adesso tocca a Natsuki però eh Sì sì va bene vado vado Eh la poesia si chiama Si chiama Basta fissarmi Eh ma stai presentando la tua poesia Mmm Non è che mi dovete fissare così Come se voleste rubarmi l'anima Si prende un attimo per ricomporsi E comincia a recitare una poesia Anche lei In effetti le poesie di Natsuki Lette ad altavoce rendono veramente tanto Finisce in fretta E torna a sedere Mentre tutti Via Non è stato così male vero? Eh è facile a dirsi per te Ma non farmelo più rifare Eh ok Ma questa è una preparazione per il festival Quindi ti senti abbastanza fiduciosa Da poterlo rifare davanti a una folla di persone Eh spero Non è che ho molta altra scelta in effetti Magari sarà più facile farlo davanti a degli estranei Non mi interessa troppo quello che penseranno di me Ma quando sono davanti ai miei amici però È un po' imbarazzante Anche se non mi piace l'idea di dover fare questa cosa Davvero Pensa che per me è esattamente il contrario Natsuki Avere tutte quelle persone sconosciute che ti guardano e ti giudicano Eh non mi piace pensarci No no lo capisco anch'io in realtà Il pensiero di questi occhi che ti osservano Beh per me è un po' il contrario ma come vi pare Vabbè in questo caso Natsuki se gli estranei non ti infastidiscono Non ti devi preoccupare troppo A proposito Vorrei ringraziarvi tutti e quante per aver recitato le vostre poesie Lo so che è stato difficile Ma adesso almeno abbiamo un'idea di come saranno le cose Di come dobbiamo prepararci Preparatevi una poesia e portatemela domani D'accordo? Durante i fine settimana devo preparare degli opuscoli Mmm mi sa che devo trovare qualcos'altro da recitare Lo so che preferiresti che non usassimo una delle nostre poesie Ma è meglio che ne scelga una già pronta Quello che vuoi Kirio Sono già sorpresa piacevolmente dal fatto che ci hai messo così tanto impegno in questo club Aspettative basse vedo eh No è semplicemente che ogni tuo sforzo mi rende felice Ovviamente questo vale per tutte eh Grazie per aver dato retta questi piani dell'ultimo minuto Comunque penso che per oggi possiamo anche andare a casa Proviamo a scrivere una poesia anche per domani ok? Lo so che il festival si sta avvicinando Ma sta avvenendo bene vorrei che continuasse a venire bene Domani metteremo a punto le ultime cose da fare Poi avremo tutto il fine settimana per essere pronte Ricordatevi abbiamo tempo solo fino a lunedì Oh sarà divertente non vedo l'ora Oh ragazzi scusate Questo club vuol dire veramente tanto per me Apprezzerei molto se contassi anche per voi Grazie davvero Natsuki alza gli occhi al cielo E Yuri sorride timidamente mentre Sayori è lì tutta contenta Via via basta così Spero di non pentirmene No va bene Monica non c'è bisogno di ringraziarci Apprezziamo quello che tu fai per noi E Yuri intanto è lì che si ripete il mantra Posso farcela posso farcela Sì non vedo l'ora Sì mi piace tanto stare qui Mi piace passare il tempo così di qualità con altre persone È tutto perfetto Monica grazie Va bene prendo la borsa E per quanto non sia entusiasta quanto Monica o Sayori su questo festival Posso comunque aiutarli a realizzare questo piccolo sogno Per il bene del club E anche per far colpo sulle ragazze ovviamente Una volta che ho preso tutte le mie cose mi avvicino a Sayori Andiamo? Sì andiamo Sayori ma non ti stanchi mai di andare a casa con Kirio? E questo cosa vorrebbe dire? Ah lasciala perdere Voi due siete assolutamente adorabili Ok ok non c'è bisogno di farne un dramma però eh Però deve essere carino immagino Eh sì certo Oh cavolo Insomma andiamo Sayori eh Ok Bene ragazzi A quanto pare la conversazione con Sayori Stava prendendo una piega un po' strana Sono cambiate un bel po' di cose negli ultimi giorni E non mi ero quasi accorto di quanto Sayori fosse stata silenziosa Finché non siamo praticamente arrivati a casa Ci sono un sacco di cose che stanno succedendo nel club eh Stai pensando al fatto che quando arriveranno nuove persone I tuoi obblighi aumenteranno vero? Ehm Ah sì sì certo pensavo a quello A qualcosa di specifico? No in realtà no Scusami volevi parlare di qualcosa? No no se avevi da pensare ad altro non c'è problema No no mi piace parlare con te Stavo pensando a qualcosa che ho sentito prima È bello che noi insomma No non fa niente non fa niente eh Adesso mi sembri un po' Yuri e vi pazienza Ah eh sì può darsi Eh ho una domanda per te Kirio Dimmi Metti che un giorno Yuri ti possa chiedere di accompagnarla a casa Eh? Tu cosa faresti? E che domanda è questa Sayori? Non ne ho idea Ma io vado a casa con Sayori Ma che scherzi davvero Sayori Io verrei via con te ovviamente no? Sayori fa un attimo di pausa Eh? Mi guarda Ma Ma lei è così bella e intelligente? È un po' troppo per Kirio eh Eh sì ma Perché mi sta dicendo queste cose? Ma la vedo tutti i giorni al club E poi a te piace quando ti accompagno a casa no? Non vorrei scelto rovinarti una cosa del genere? Ah come sei scemo Kirio Ci pensi troppo a me delle volte? Anche Yuri se lo meriterebbe Se soltanto lei volesse averti un po' per sé Quindi Ma Sayori ho già deciso A volte non riesco proprio a capirti Scusa Te l'ho già detto Mi piace stare insieme a te Perché dovrei lasciarti perdere per un'altra? Andare a casa insieme Parlare Tutte queste cose qui È come essere tornati bambini Ma lei non sembra così contenta per la mia risposta? Che strano Non so perché faccia così Però voglio rispettarla E anche renderla felice Sayori e Dio ci dividiamo Senza dire una parola Vado a casa mia Apro la porta E direi che questo è il momento di salutarci ragazzi Cosa ne pensate? Come mai Sayori ha reagito in questa maniera? Onestamente non lo so Se questa è la reazione che avrebbe anche nel gioco regolare Oppure no Perché non ho mai fatto tutta la ruta di Sayori Come sto facendo adesso Ma un giorno la farò Perché ci tengo anche a fare il finale vero Di Doki Doki di Tattoo Club Ma di questo parleremo un'altra volta Intanto Cosa pensate che succederà al festival? Ci sarà davvero il festival? Lo succederà a un macello? Grazie a tutti Alla prossima Con il magico monto Di Doki Doki di Tattoo Club Ciao E adesso vado a togliermi l'asciugamano Ciao ciao